Voglio presentarvi una mia creazione, si chiama Gastic ed è un pastuccino con una pallina di goba piova e un inserto in goba che serve per infilarlo sul tappo. È stato invettato per pulire i venti e è venuto fuori il prototipo che senza parlare insegnava a giocare a tallys bene. Questo attrezzo aiuta il giocatore a percepire nel corpo. Gastic, se vi colpisce, vi sta insediando. Allora, mi sono sentita obbligata a colpire la palla più avanti e anche un po' più lontana dal corpo perché altrimenti mi colpiva. Il fatto che si debba pensare di tenerlo lontano ti fa proprio fare il movimento completo, chiuso. Molto bello, interessante. Come hai trovato qualche beneficio? Se il mio problema è sempre stato di non aprire bene il movimento, effettivamente subito dopo anche i pallenci che abbiamo fatto a metà campo riuscivo a posizionarmi meglio coi piedi, aprire di più e sentire più la palla. E penso di meno, ho meno problemi con pensieri, le gambe così, la corsa con l'alaga. Quella viene più automatica perché è come se questo piccolo attrezzo mi aiutasse già da solo.